ciao ragazzi allora questo è un video dedicato alle persone che hanno commentato miei recenti video innanzitutto vi ringrazio per mandarmi le vostre considerazioni e i vostri commenti su youtube credo che sia divertente e utile sia per me che per voi o per chi ama parlare di calcio e ama confrontarsi sul calcio allora parto da gianni figli di roma uno dei miei più cari amici con cui spesso ci confrontiamo di cose calcistiche e con cui facciamo un fattacalcio dunque gianni mi fa una provocazione lui è tifoso della roma mi dice vito ma se la juve vince all'ultimo allora la mentalità e non mollare mai fino alla fine se invece poi la roma vince all'ultimo si parla di roma mediocre di partita mediocre che si salva solo all'ultimo allora con molta fortuna sottintende gianni rispetto alla partita vinta dalla roma con frosinone allora gianni colgo l'intenzione leggo fra le righe quello che dici e lo condivido nel senso la roma è stata capace caparbia di trovare quel quella velocità di passaggio all'ultimo minuto ed è riuscita a fare un gol quindi ci ha creduto fino alla fine merito a voi di averci creduto merito a voi di aver fatto quel gol al 95esimo aiutati anche da una squadra diciamo molto molto con molte difficoltà come il frosinone con dei giocatori non da serie a però insomma c'è da riconoscere che ci avete creduto fino alla fine questa volta e la mentalità si è sentita ma io ho già detto che quando la roma scende il campo si sente un po già la mentalità ne ha parlato anche dei rossi in settimana scorsa però si ha detto ho avuto dei compagni della juventus in nazionale ho imparato da loro che vogliono vincere ogni partita e questa è la mentalità che io provo a mettere in campo e a insegnare ai miei compagni tu sicuramente avrai letto le dichiarazioni dei rossi dicono un po questa cosa qua io l'avevo detta che con la frosinone si sentiva che la roma è prima o poi che i giocatori erano convinti prima o poi di riuscirci allora poi passo al tuo secondo commento della partita vinta da allegri all'ultimo minuto e insomma qua critichi la partita della juventus bologna juventus e a pochi minuti alla fine fa il gol poi inizia a parlare di plus valenze 70 miliardi di plus valenze della juve e invece dov'è il free play finanziario questo si chiede gianni se la juve fa 70 milioni di plus valenze come fa il milano a spendere 70 milioni a comprate piate quando è stato mutato dall'uefa su questo punto io non mi esprimo gianni perché sai che su questioni finanziarie insomma non si può mai dire sono d'accordo con te comunque c'è sicuramente della mafia le società fanno quello che vogliono pensare un po al passaggio di neymar dal barcellona al psg è stato uno scandalo pauroso dopo quel passaggio di neymar non si può parlare di più 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 di fair play quindi non esiste più parlare di plus valenze 70 milioni non si sa che al milano non si sa che il presidente non si sa che la società quindi io uscirei fuori da queste cose che purtroppo uccidono la passione calcistica ammesso e non concesso che esiste la mafia il caso neymar e sparti acqua c'è da quel momento in poi non c'è no way non c'è più modo non credo che non ci sia più bisogno di parlarne però sono d'accordo con te che le squadre comprano e sono sono multate e poi una squadra che ha posto che conti deve far comunque deve far comunque deve deve trarre il massimo da quello che ha in squadra adesso c'è un commento di rolling dog rolling dog ti ringrazio rolling dog per questo commento e dice concordo che ci vuole equilibrio nei giudizi però la juventus sta giocando molto male ha perso quattro partite di cui due fondamentali per il passaggio del turno nelle coppe sbattuto fuori dall'atalanta con un 3 a 0 lui capisce la coppa italia ma la champions league ci può stare a perdere ma non con tutti quei campioni che ha la juventus in campo e soprattutto non sovrastati in quel modo col bologna uguale è stata una partita disastrosa senza gioco senza scrivi senza condizioni nulla assoluto dice rolling dog dunque rolling dog allora velocemente allora in coppa italia ne ha vinte 4 come è scritto quindi quella sconfitta a poca storia certo fa male uscire da una competizione che era un obiettivo in champions league con l'atletico ho già parlato ho già detto quello che penso cioè al primo tempo la juve l'ha giocato bene il secondo tempo non è scesa in campo ha subito due gol poteva andare anche peggio e quindi non si può che dare la colpa alla società alla squadra e all'allenatore di quel secondo tempo e non si sa cosa succede bene in champions league quando in alcune partite la juventus nel secondo tempo perde la bustola come la finale di cardiff e poi rispetto a bologna c'è poca storia comunque è una squadra anche se ha perso 4 partite è una squadra che è arrivata a avere 13 punti di vantaggio sulla seconda quindi credo che abbiano fatto bene fino adesso è arrivata a qualificarsi agli ottavi di champions quindi ok vediamo quello che è andato storto adesso ma non dimentichiamo quello che è andato bene fino adesso perché con il bologna una partita senza storia e se la juve può permettersi di giocare al 30 per cento con la mentalità vincente di di sapere comunque di sapere comunque prima o poi che un gollo fa è sicuramente un merito di allegri innanzitutto per la convinzione la mentalità e la stabilità che dà la squadra poi sono d'accordo con te che comunque bisogna stare molto attenti perché se non la fase cruciale della stagione una fase cruciale e quindi gli errori valgono doppio si pagano al doppio se non di più grazie ragazzi cheers commentate continuate a commentare i video condivideteli se potete su facebook tramite la mia pagina facebook bella vi e invitate i vostri amici a iscriversi al canale se avete amici su chat whatsapp di fantacalcio chat in cui parlate di calcio mandate questi video in chat magari qualcuno vuole unirsi a noi nella nella conversazione grazie buona serata ciao da bella vita